Siamo in compagnia di Marco Bertelli, ingegnere Marco Bertelli, proprietario di Energy Hydrogen, Energy Hydrogen ditta di Madonna dell'Acqua, qua a San Giuliano Terme, a un passo alle porte di Pisa, che dal 1 gennaio 2018 ha iniziato la commercializzazione di Hydro. Questa è la caldaia che è possibile vedere e toccare proprio presso la sua azienda, questa invece è quella che poi sarà definitivamente... Insomma, allora, che cosa è questa idea, da dove arriva e soprattutto dove potrà portarci in un prossimo futuro, che è già adesso, possiamo dire. Esatto, questo è il futuro, è una caldaia che nasce con un'idea del 2006, dopodiché, dopo varie sperimentazioni, abbiamo ottenuto un prodotto finale nel 2014. Abbiamo cercato di ottimizzare al massimo e all'inizio del 2018 l'abbiamo pubblicizzata per la vendita. Allora, tra gli aspetti tecnici più interessanti, direi rivoluzionari, il fatto che intanto questa macchina, che è una pompa, utilizza l'idrogeno, come potete vedere alle vostre spalle, come carburante. Chiaramente la facciamo per chi ci ascolta e non per i tecnici, insomma, il carburante è l'idrogeno. All'interno di questa macchina ci sono tre bombole di idrogeno per un valore di 3 kg. Con questi 3 kg di idrogeno possiamo fare, abbiamo un'autonomia di un anno, quindi questa macchina per un anno ci dà energia elettrica e acqua calda e acqua sanitaria per il nostro appartamento. Un appartamento medio che può andare dagli 80 metri ai 150. Mi diceva, fuori dall'intervista, circa 600 euro annue di costo in spesa per l'idrogeno, che però garantiscono, proprio come ha detto, i 6 kg di punta in fornitura di energia elettrica, ma i 4,5-4,8 di media, più l'acqua calda e il riscaldamento. Esatto, esatto, ha detto proprio bene. Un prelievo di punta, quindi di picco, di 6,2 kW, mentre un prelievo costante intorno ai 4,8-5 kW, mentre per quanto riguarda l'energia termica abbiamo 27.000 calorie annui costanti. Allora, questo detto veramente in soldoni e per cercare di far capire i nostri utenti. Allora, Marco Bertelli, quando uno utilizza questa caldaia, fa un investimento ad esempio assimilabile a quello di una caldaia a pellet, quindi che viene subito ammortizzata nel giro di pochi anni, ma soprattutto si stacca completamente dalle forniture, dalle utenze. Esatto, noi con questa caldaia, è una caldaia isola, che lavora esclusivamente a isola, ci stacchiamo dalla fornitura gas e dalla fornitura elettrica. Con questa caldaia abbiamo l'autonomia completa dell'abitazione e con un risparmio in soldoni di 1.200 euro. Dico il risparmio economico di 1.200 euro, però non è solo quello. Questa caldaia non ha emissioni nell'atmosfera, non ha emissioni inquinanti, non inquina, può essere messa in casa, in qualsiasi locale, e non ha bisogno di scarichi verso l'esterno. Quindi non inquina. Immaginate mettere questa caldaia in una città tipo Roma, 30-40.000 di queste caldaie, quanto abbattimento di polvi sottili abbiamo e quanti tumori in meno, specialmente nei bambini. E non è una questione di poco conto il fatto che sia completamente ad isola, perché ciò che viene prodotto di scarto dalla combustione dell'idrogeno, insomma, da questa macchina è acqua, a tutti gli effetti, che è acqua distillata che poi torna in circolo e viene utilizzata per il processo proprio della macchina. Esatto, la cella che viene all'inizio alimentata ad idrogeno, dopodiché con l'acqua viene di nuovo alimentata e produce energia, energia termica, che viene trasformata col vapore e gira nella turbina, produce corrente elettrica e riscaldamento, dopodiché l'acqua di recupero ritorna in circolo e viene rimessa nella cella. Quindi non abbiamo noi un prodotto che va in dispersione e va a inquinare. Quindi è un prodotto totalmente, totalmente ecologico e bisogna valutare questo aspetto, perché se vogliamo lasciare un mondo migliore dobbiamo pensare a questo, non all'inquinamento, non alle polveri sottili, non agli idrocarburi, ma a un sistema totalmente a isola, totalmente non inquinante. Allora, ciò che può preoccupare, così andiamo anche in conclusione di intervista, i nostri utenti e l'utente medio può essere sicuramente ciò che riguarda la gestione futura dopo l'installazione iniziale, ovvero il ricarico delle bombole, l'assistenza tecnica e tutto questo. La vostra azienda poi che cosa farà? Garantirà anche questo attraverso magari delle... Non so, mi spieghi un po' che cosa succede dopo. Esatto, noi non siamo gli installatori, non siamo poi quelli che seguiranno le singole caldaie. A ogni provincia viene assegnato un concessionario il quale farà le manutenzioni, le ricariche, quindi l'utente non avrà niente da preoccuparsi in quanto nelle singole città, nelle sue province ci sono i concessionari che provvederanno a tutto. Allora, dal sogno alla realtà, dal primo gennaio siete passati alla commercializzazione, già sono arrivate le prime offerte, le prime richieste, insomma, in azienda, avete venduto in tutta Italia, perché state facendo promozioni in tutta Italia. Ora siamo a Pisa e parliamo per il bacino d'utenza di riferimento della vostra azienda, che insomma è pisana. A lei vorrei dire e chiedere, anzi vorrei sottolineare a chi ci sta ascoltando, che questo è un brevetto internazionale, chiaramente, e idro è la prima caldaia in assoluto al mondo ad idrogeno, insomma, qua si parla veramente di rivoluzione energetica. Sì, esatto, questa è la prima caldaia in assoluto, il brevetto è totalmente nostro, totalmente mio, per l'esattezza, e la caldaia, come dire, per non ripetersi, è una caldaia isola, un brevetto esclusivo, internazionale, vendiamo in tutto il mondo, ci hanno fatto richieste dall'Argentina, però attualmente il nostro bacino d'utenza è tutta l'Italia. Noi stiamo vendendo caldaie in Sicilia, in Trentino, in Piemonte, in Valle d'Aosta, e qui nella nostra provincia, e quindi da settembre, ottobre, forse novembre, cominceremo poi la distribuzione in massa, perché la produzione delle caldaie verrà fatta in Romania. L'aspetto della sicurezza, chiaramente, è molto curato, proprio perché si parla di idrogeno, che è un materiale, insomma, altamente infiammabile e esplosivo, se non erro, però chiaramente la sicurezza è tutta garantitissima, e lasciamo questo aspetto a chi vorrà informarsi poi direttamente sul vostro sito internet, però a proposito di questo, se ci può dare qualche contatto dell'HydroEnergy. Sì, e per quanto riguarda la sicurezza, non è un aspetto che noi abbiamo tralasciato, anzi, specifichiamo che all'interno della macchina c'è un PLC, un PLC a doppio circuito, una specie di scatola nera, tipo delle aerei, che registra tutte le funzioni della macchina, e in questo senso, qualsiasi anomalia che viene avvisata, viene comunicata direttamente al centro di assistenza, anche interrompendo proprio la funzione della macchina stessa. Perfetto, allora siamo veramente in chiusura, un'ultima battuta però gliela devo far fare, ed è quella più personale, insomma, riferita all'uomo, no? Che sta dietro al progetto e sta dietro all'ingegnere. Allora, lei, Marco Bertelli, nel 2008 decise di mettersi in proprio e provare il famoso colpo gobbo, che però, insomma, aveva dei criteri, no? Di base, ecco, insomma, non è stata una scommessa completa. Ha trovato il brevetto, ha già creato un brevetto, ha puntato tutto su questa macchina, ora siamo al momento del lancio nazionale ed internazionale. Allora, che momenti sta attraversando e, insomma, come vede il futuro? No, il futuro lo vedo bene, perché la macchina ha trovato un riscontro eccezionale, molte condivisioni e molte prepressità, perché è normale che le persone abbiano delle prepressità, però naturalmente noi andiamo avanti e cerchiamo di dare sempre i chiarimenti e tutti aspettano le prime installazioni per poi verificare l'effettiva funzionalità e capacità della macchina. Quindi per chi volesse contattarvi o, insomma, per chi volesse visionare i vostri prodotti, dove deve andare e che cosa deve fare? Deve andare sul nostro sito, idrogenoverde.it, ci sono tutti i numeri di contatto, abbiamo dei video, abbiamo tutte le scade tecniche e in funzione di quello uno può trarre il prodotto perché più li si addice.